Sì, è la volta ora di Franco Ferrari, rappresentante di Rifondazione Comunista per i punti principali del programma. Buongiorno a tutti e a tutti. Rifondazione Comunista ha fatto una scelta unitaria di sostenere assieme agli amici e compagni del Partito Comunista Italiano Ettore Manno Sindaco. E questo è un primo motivo per sostenere la nostra lista e i nostri candidati, perché noi siamo per l'unità di tutte le forze della sinistra alternativa, a Parma come a livello nazionale. Alternativi al PD che fa scelte di destra, alternativa a Grillo che fa scelte populiste e confuse, alternativi alla destra razzista. Su Parma diciamo fondamentalmente quattro cose. Prima di tutto un'amministrazione dalla parte dei lavoratori, dalla parte dei disoccupati, dalla parte di chi fa fatica a arrivare alla fine del mese, non dalla parte di chi fa soldi sui ponti inutili. Siamo a Parma per un'amministrazione che sostenga davvero la democrazia. La democrazia non vuole dire un sindaco chiuso nella sua stanza a parlare solo con qualcuno, ma un'amministrazione che sposta potere reale ai cittadini. Noi siamo per questa democrazia. Siamo contro le privatizzazioni, siamo per valorizzare il ruolo del pubblico e siamo per valorizzare il ruolo delle migliaia di persone che lavorano nell'azienda ospedaliera, all'università, al comune. Tutti quelli che ogni giorno si alzano e vanno al lavoro per dare servizi utili, importanti, con grande onestà di edizione a tutti i cittadini. Non vogliamo che questi servizi siano smantellati, non vogliamo che siano affidati a precari, non vogliamo che siano affidati a lavoratori sempre più sfruttati. Vogliamo che questi siano gli elementi caratterizzanti di un'amministrazione, perché il voto di Parma, tra l'altro, è un voto che serve non solo a livello locale, ma avrà una valenza nazionale e quindi io credo che i parmigiani e le parmigiane debbano pensare con il loro voto anche non solo ad avere una città migliore, una città più bella e felice, una città con l'aria più pulita di quella che è oggi, ma anche a dire a livello nazionale che da Parma viene un scenario importante di cambiamento, di unità a sinistra, di volontà di stare dalla parte dei lavoratori. Ora l'appello al voto di Franco Ferrari di Rifondazione Comunista. L'appello è a votare per la lista di Rifondazione Comunista, la lista con la falce martello e con la scritta Rifondazione in alto. È importante mettere la propria croce sul simbolo perché il voto vale di più. Noi ci rivolgiamo alla Parma popolare, alla Parma ribelle, alla Parma di Guido Picelli, ma alla Parma anche che guarda il futuro, alla Parma antirazzista, antifascista e che vuole essere solidale e aperta, ma anche certa dei propri valori, dei propri pensieri. Si conclude qui la prima parte della tribuna elettorale.